A che prezzo? A che prezzo? E a che prezzo? Questa è la classica domanda delle domande, la domanda da un milione di dollari o in questo caso forse dovremmo dire la domanda da un milione di bitcoin. Prima di rispondere però, cioè a che prezzo venderei i miei bitcoin se mai li detenessi, oggi ragazzi voglio fare un ragionamento con voi. Secondo me la prima cosa che vi dovete chied... Cos'era? Un rumore stranissimo. La prima cosa che vi dovete chiedere prima di vendere bitcoin o prima di appunto farvi questa domanda, cioè a che prezzo inizierò ad uscire dai miei bitcoin, vi dovreste chiedere perché. Perché dovreste vendere bitcoin? Oggi andiamo a vedere anche un po' di dati, andiamo a fare un ragionamento con voi. Sono curioso di sapere voi che cosa ne pensate. Qua sotto nei commenti scrivetemi a che prezzo voi vendereste bitcoin, lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale. Ragazzi, come sapete non l'ho mai nascosto, lo scopo che abbiamo in Desert Academy è quello di fare quanti più soldi possibili. Questa è la nostra, diciamo, strategia, la nostra operatività. No, quindi quando parliamo di soldi andiamo a parlare di dollari, andiamo a speculare all'interno del mercato, andiamo a cercare di utilizzare le altcoin come qualcosa di estremamente volatile, ma anche ci consente di accelerare i nostri profitti all'interno del mercato per poi massimizzare i nostri profitti e li andiamo ovviamente a conteggiare in dollari. Questo è l'approccio speculatore. Ragazzi, mi rendo conto che tantissime persone sono all'interno di questo mercato senza conoscere assolutamente la differenza tra speculazione e investimento. Ragazzi, la speculazione ci consente di lavorare, di far lavorare il nostro denaro per cercare di massimizzare la quantità di denaro che noi riusciamo a generare nel più breve tempo possibile. Quindi, ok, perfetto. In questo caso possiamo anche darci dei target ai quali andremo a vendere i nostri bitcoin, le nostre altcoin, o qualsiasi esso sia l'asset su cui stiamo andando a speculare. Mentre, ragazzi, per quanto riguarda l'investimento, l'investimento è qualcosa di valore che continua a generare valore e continua a dare, diciamo, dei benefici all'investitore nel lungo periodo senza però perdere il sottostante che può essere rivenduto in un qualsiasi momento. Quindi si ragiona di lungo periodo e ha due funzionalità. Proteggere i propri risparmi, il proprio capitale, quindi fare una sorta di protezione del valore e aumentare, eventualmente, nel tempo, il valore e dare, appunto, valore al investitore. Queste sono le due funzionalità principali di un investimento, mentre la speculazione è a tutti gli effetti, ragazzi, un'attività lavorativa. Quindi, secondo me, la prima cosa che vi dovreste chiedere è, appunto, io sono uno speculatore, sono un investitore, o entrambe le cose. Michael Saylor acquisterà per sempre Bitcoin. Non c'è nessun motivo di vendere il vincitore. Ne abbiamo già parlato, questa è stata un'intervista shock di Michael Saylor che in TV aveva dichiarato, ufficialmente, io non venderò mai Bitcoin perché non c'è nessun motivo di vendere l'asset class migliore in circolazione per comprare qualcos'altro. Infatti, ragazzi, dovete sapere che se andate a vendere Bitcoin fondamentalmente state acquistando qualcos'altro. Ora state guardando il grafico dell'euro. Ok? Questo è un grafico a 12 mesi, ogni candela è un anno, ragazzi. Questo è l'euro. Quindi, se voi vendete Bitcoin per l'euro, state comprando qualcosa che negli ultimi... Adesso vediamo anche quante candele sono. Negli ultimi 20 anni, ok, ha fatto un meno 34%. Questo è l'euro, ragazzi. Quindi state comprando qualcosa, perché in questo caso state... È quello che dovete capire. Cioè, anche quando, ragazzi, voi decidete di non investire e di tenere i vostri soldi in banca, state comprando la vostra valuta di riferimento. Questo è l'euro, ragazzi. Quindi state comprando qualcosa che negli ultimi 20 anni ha perso il 34,82%. Fine. Questo vuol dire che se voi avevate dei soldi in banca, negli ultimi 20 anni si sono svalutati di più di un terzo. Il dollaro, ragazzi, che ultimamente ha acquisito forza, perché effettivamente sta acquisendo forza, rispetto ai suoi massimi ad oggi, comunque che sta dimostrando molta forza, è comunque a un meno 35%. Se andiamo a vedere fino a dove era arrivato ai minimi, praticamente quasi un meno 60%. Questo è il potere di acquisto dell'euro, del dollaro, e di probabilmente tutte le valute fiat a cui state pensando in questo momento stabili. Perché poi ci sono valute fiat con inflazione addirittura al 100% anno. Quindi lasciamo perdere, ragazzi, pensate a paesi, diciamo, di un certo tipo. Ah, ma quindi Bitcoin non può essere paragonato al dollaro, all'euro, perché Bitcoin è molto più volatile. Assolutamente sì, è vero. Bitcoin nel breve periodo è estremamente più volatile, ma è un asset che per sua costituzione e soprattutto per sue performance storiche, negli ultimi dieci anni, da quando esiste, non ha fatto altro che aumentare il suo valore, a prescindere dalla volatilità. Per questo anche avevo fatto, vi ricordo, un video, che vi consiglio di andare a vedere all'interno del mio canale, dove parlai, appunto, di come Bitcoin non è rischioso. Bitcoin è solo volatile, non è rischioso. Perché rischioso è qualcosa che rischia di azzerare il nostro investimento, ok? Volatilità, invece, è un altro, è una caratteristica, diciamo. È una caratteristica, una predominante di un asset, che ovviamente, avendo una market cap più piccola, di conseguenza è anche volatile. Ovviamente, ragazzi, ve lo devo dire, questo è un argomento che ovviamente suscita tantissimo scalpore, per le persone non è facile da comprendere, perché bisognerebbe, appunto, comprendere quello che poi è veramente Bitcoin, ma se ne andiamo a categorizzare, tra virgolette, tra yard asset e Bitcoin, è molto meglio. È molto meglio dell'oro, è molto meglio dell'argento, è molto meglio dell'SP500, è molto meglio di qualsiasi altro asset. Andiamo a vedere Saylor che cosa afferma. Saylor ha affermato che la criptovaluta è tecnicamente superiore all'oro, all'SP500 e anche al mercato immobiliare. Nonostante ciascuna asset class abbia una capitalizzazione di mercato di gran lunga superiore ai mille miliardi di dollari di Bitcoin, crediamo che il capitale continuerà a fluire da queste asset class verso Bitcoin. Bitcoin è tecnicamente superiore e non c'è motivo di vendere il vincitore per comprare i perdenti. Ragazzi, come al solito, il mercato è un gioco di pazienza, è un gioco di pazienza che sposta il denaro da chi non ha pazienza verso chi ha pazienza. Ecco perché prima vi ho parlato del ragionamento che dovreste fare se siete speculatori o se siete investitori. Si può essere anche entrambe le cose, ragazzi. Io mi definisco in questo momento uno speculatore. Quindi, stai dicendo che non venderai mai Bitcoin e stai dicendo che non uscirai mai del mercato delle cripto. Allora, intanto ragazzi dovete capire che Bitcoin non è uguale a criptovalute. Prima cosa, per quanto mi riguarda, lo sapete molto chiaro, le altcoin sono ufficialmente uno schifo, ok? Sono niente, assoluto, il nulla, più cosmico totale, pura speculazione. Infatti, se andiamo a vedere anche su CoinMarketCap, ragazzi, ora ve lo faccio vedere al volissimo, ma lo sapete meglio di me, chi troviamo in top 10? Dogecoin, una meme coin, che è arrivata a capitalizzare in questo momento 22 miliardi di dollari, capite? Che se in un mercato la top 8 è una meme coin, capite che non può essere considerato un mercato serio, ok ragazzi? Questo non è un mercato serio, questo mercato è un giocattolo. Questo mercato è un giocattolo, è un gioco, un giochino, chiamatelo come vi pare, è qualcosa che ci deve aiutare ad aumentare la nostra detenzione di Bitcoin, punto, fine, se volete Bitcoin, o nel caso, se volete prendervi un bel dollarozzo che ha fatto bene, devo dire, sta andando fortissimo, complimenti, bei rialzi, e soprattutto questo, che è un grafico di una morta che cammina, di una zombie, praticamente, che cammina, che è invece l'euro. Potete decidere di esporvi su questo. Oppure, ragazzi, potete anche decidere perché no, di esporvi su un ETF in generale, andare magari su un indice, andare a diversificare con le materie prime, ovviamente non sono io a potervi dare la risposta. Quello che però inizia a essere interessante è che tantissime banche, istituzioni, si stanno accorgendo di Bitcoin, e la Svizzera, che è una delle avanguardie in questo, sta iniziando a ragionare. Bitcoin, nelle riserve della BNS, si lavora all'iniziativa, la principale banca svizzera, sta proponendo, ha proposto, di inserire insieme all'oro anche Bitcoin, come valuta di riserva di valore. Il Bitcoin dovrebbe entrare a far parte delle riserve monetarie della Svizzera, è quanto aspica un gruppo di sostenitori delle criptovalute, che sta progettando un'iniziativa popolare per realizzare la loro idea. Il testo della proposta di modifica costituzionale non specifica quale dovrebbe essere la percentuale di Bitcoin nei forzieri della Banca Nazionale. Svizzera, la BNS, l'obiettivo principale però, per il momento, è ovviamente quello di avviare un dibattito in dichiarazioni riportate. Il membro dell'associazione categoria Bitcoin Association Svizzera è preoccupato per il futuro della Svizzera in un mondo sempre più incerto e in un mondo sempre più incerto in cui abbiamo l'inflazione sempre più alta, la sovranità sempre più a rischio, una tensione continua sempre maggiore, ecco che Bitcoin sta diventando una risposta, per lo meno da prendere in considerazione e se lo fanno le banche, ragazzi, se lo fanno i paesi, non vedo perché non dovreste farlo anche voi, ovviamente, non sono consigli finanziari. Quindi, ragazzi, vendere Bitcoin ha senso? È una bellissima domanda a cui io non so rispondere, quindi non saprei darti una risposta a questo, al titolo a cui ho dato a questo video. Vi dico sinceramente, penso che sia molto molto complesso in questo momento capire se effettivamente ha un senso oppure no vendere Bitcoin. Io penso che avere almeno una parte di portafoglio di liquidità dedicata e allocata su Bitcoin, non come speculazione, ma come investimento, sia assolutamente fondamentale. Ok, ragazzi? Dopodiché, un'altra cosa che vi ho detto, a livello speculativo, ovviamente, questo è un asset estremamente volatile e quindi dovete essere anche pronti ad accettare questa volatilità e a farne in qualche modo tesoro, a sfruttarla a vostro vantaggio. Quello che facciamo noi in Academy è proprio questo, cercare di utilizzare la volatilità di Bitcoin che poi si riflette maggiormente sulle Bitcoin per massimizzare quanti più godagni possibili che poi questi godagni vogliate dedicarli a Bitcoin o metterli in dollari e, non lo so, fare altro genere di investimenti oppure godervi la vita. Questo è, ragazzi, dipende da ognuno di voi, però, attenzione, attenzione ai soldi che avete in banca, attenzione. Ok, ragazzi, io sono curioso di sapere anche voi che cosa ne pensate, qua sotto magari con un commento e, niente, ci vediamo alla prossima puntata.